Siamo con Giacomo Germandi per il quarto round stagionale del trofeo Formula Promotion qui sul circuito di Cervesina allora Giacomo è la tua seconda gara stagionale raccontaci le tue sensazioni e se stai iniziando a prendere il feeling giusto con questa vettura ciao Marco buongiorno bene molto bene sono molto contento abbiamo esordito a Varano il mese scorso una gara bagnata gara fortunata è andata anche abbastanza bene purtroppo quando siamo riusciti a fare test la settimana scorsa siamo arrivati qua ieri nelle prove abbiamo fatto tre giri si è rotto il motore devo ringraziare omer a quel santuomo che c'è lì che sta che l'avranno tutta la notte per cambiare il motore e questa mattina siamo entrati abbiamo fatto un giro di qualifiche siamo riusciti a buttarci mezza gruppo quindi adesso è tutta gara andiamo a divertirci vediamo quello che succede senti non hai esperienze a livello agonistico precedentemente alla formula promotion come è scattata l'idea di poter partecipare a questo campionato e soprattutto come ti sei trovato a gareggiare con gli altri piloti in pista ma guarda la passione ce l'ho sempre avuta fin da quando da quando sono il bambino sempre sognato di correre in macchina poi sai lì anche una questione di mezzi di opportunità ho scoperto questo campionato tramite luca panizzi c'è la possibilità di correre a un accessibile è qualcosa che si incontra anche con quello che noi facciamo quindi con il progetto che abbiamo anche come azienda quindi una cosa che vogliamo sposare è una cosa molto 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 bella mi sono trovato bene l'ambiente l'ambiente piacevole cioè quando si tira giù la visiera non si guarda in faccia nessuno però nel box ci si scambia opinioni è veramente bello essere qui che consigli daresti a un giovane pilota a corto di esperienza magari nel mondo delle corse nell'approcciare questa categoria e che tipo di difficoltà si possono trovare che tipo invece di sensazioni positive si possono provare in una volta in pista guarda le sensazioni sono bellissime nel senso che potresti rinunciare questa altra cosa nel weekend per correre qua è veramente veramente bella ternellina pura consiglio che posso dare beh allora fate cassetta fate un po di cassetta però è molto molto accessibile quindi vengono organizzati spesso i test più o meno una volta al mese e c'è la possibilità veramente con i soldi con i quali potreste andare con la fidanzata al mare weekend di salire in macchina provarla esattamente come ho fatto io fate un turno ne fate due vi innamorate vedrete che una soluzione per correre la trovate perché qui si corre veramente ai prezzo del go kart magari le fidanzate non saranno troppo contente cosa ne dici non lo so i fidanzati devono fare le loro scelte per quello che mi riguarda la passione la passione poi se la tua fidanzata non la condivide allora cambia la fidanzata grazie in bocca al lupo grazie grazie a voi complimenti